Simone, si riparte, dopo la sosta c'è questo match con Cosenza, è stato cancellato definitivamente quello che di non positivo è successo a Crotone? Sì a Crotone abbiamo fatto una bella prestazione sicuramente, c'è anche a dire che giocavamo contro una squadra veramente molto forte, secondo me è quella che sta attraversando un momento migliore adesso e a cui vanno fatti i complimenti perché riescono a unire i risultati positivi a un bellissimo gioco. Però adesso, la settimana scorsa abbiamo voltato pagina, questa settimana ci siamo focalizzati sui nostri meccanismi di gioco e sul lavoro fisico e adesso andremo a preparare la partita di Cosenza, contro Cosenza, in cui ci giochiamo tanto. Nelle prime 5 partite 12 punti, nelle restanti 7 5, come te lo spieghi? Lo spiego che bisogna migliorare, bisogna saper leggere i momenti della partita sia durante la partita stessa che durante le varie partite e capire i momenti del campionato e aggrapparci all'organizzazione di gioco che abbiamo per far sì che sia il gruppo, la squadra a risaltare. Quindi da questo punto di vista dobbiamo migliorare, sicuramente lo faremo e questo fa parte del processo che da inizio stagione è partito per diventare il prima possibile una squadra e fare della compattezza la nostra arma migliore. Perché poi le qualità davanti ce le abbiamo, quelle sono indiscutibili, però tutto parte da una compattezza di squadra che è fondamentale. Nella scorsa settimana il patron Pulcinelli vi è stato molto molto vicino, quanto è importante sentire l'energia positiva del numero uno? No, no, è importantissimo, poi da questo punto di vista penso che lui non sia secondo a nessuno, è una persona che illumina le stanze quando entra e sicuramente anche nei momenti più bui è uno che è molto capace di farci vedere le cose anche in maniera positiva e ci dà slancio per il futuro. Come stai vedendo? Ninkovic ci dicono che si sta allenando davvero molto bene e da giocatore molto esperto che idea ti sei fatto di quello che è successo? Ma allora gli episodi ci siamo messi alle spalle perché adesso è giusto pensare alle partite che ci attendono e al campo. Per quanto riguarda Nicola è tornato in una maniera ottimale da questo periodo di pausa che si è preso e sicuramente tornerà a darci una mano come ha sempre fatto. A livello personale sei soddisfatto del contributo che stai dando alla squadra? Nove presenze sempre a titolare e soprattutto a terzino sinistro? Sono soddisfatto in parte, so che posso e devo dare di più sia in campo che nell'aiutare a far sì che questa squadra diventi squadra prima possibile. Il Cosenza, un osso duro perché è una squadra molto organizzata, Braglia è una vecchia volpe del campionato di Serie B, nelle ultime otto gare loro ne hanno perso solamente una, quindi è una squadra da prendere con le pinze. Sì sì sicuramente, era partita così così, poi ha inanellato una serie di risultati importanti, si è risollevata in classifica, temo soprattutto il loro attacco che comunque è fatta di gente molto rapida. Però è da settimana scorsa che ci stiamo focalizzando soprattutto su di noi, sapendo che se il Cosenza verrà qua e troverà un Ascoli che è in giornata e fa le cose come sa fare, il Cosenza andrà in difficoltà. Fondamentale tornare a vittoria? Sì fondamentale perché se vogliamo che la classifica torni a essere bella come era fino a poche settimane fa bisogna assolutamente vincere, ci sono pochi alibi, pochi scusanti, questo è l'unico messaggio che mi sento di dire, però penso che lo sappiamo tutti all'interno dello spogliatoio che se vogliamo fare un campionato di un certo tipo e far sì che la classifica torni a sorridere bisogna assolutamente vincere. Grazie